Sono molto rammaricato del fatto che in un momento così delicato in cui l'informazione che io apprezzo sta svolgendo un lavoro importantissimo ed incomiabile, ci siamo dovuti svegliare con una fake news e falsa notizia molto grave su un argomento molto delicato pubblicato dal quotidiano Il Mattino con riferimento a una presunta ordinanza di chiusure di strade a pedoni e notizia totalmente falsa, totalmente destituita di ogni fondamento che produce un grave e rischioso disorientamento nell'opinione pubblica della nostra città. Grazie.